1, 2, 3, via! Com'è andata Presidente? Presidente un commento! Presidente non parla più! No! Un commento... E' stato contento di viceversa! E' stato sempre solo bene! Una bellissima iniziativa! Bellissima inventata da un'altra persona! Era giusto che era il presidente! E' una prima coppia! Che ha fatto questa bella prestazione! Niente, andiamo a morire di fuori! Ciao! Ciao! Ciao!